1943. Un mondo in guerra. Un mondo in subbuglio. Abbiamo bloccato la campagna di Hitler in Nordafrica. E adesso? Churchill ha spinto gli alleati a invadere l'Italia. Ha definito l'Italia come il ventre molle dell'Europa. Gli americani erano indecisi, ma Winston li ha convinti. Il generale Dwight D. Eisenhower, comandante in capo degli alleati, sta studiando la strategia nel Mediterraneo. Quanto a me, sono diretto a Sancelini, una remota isola a sud-ovest dell'Italia. Ultimamente perdiamo navi in questa zona. Per i servizi britannici è da imputare alla presenza della Luftwaffe a Sancelini. La Marina Britannica ha inviato un mercantile italiano catturato all'Orchidea per condurre indagini. Aveva a bordo la più recente tecnologia di intercettazione radio. Le informazioni raccolte confermano i nostri timori. I nazisti hanno una nuova arma speciale. I sopravvissuti delle navi distrutte parlano di un nuovo tipo di missile. Radio comandati dall'aereo che vi nasce. Questi nazi possono localizzare le nostre navi con precisione letale. Portidea aveva il compito di monitorare il traffico radio della Luftwaffe e scoprire le attività tedesche. Anche se adesso è richiesto, il sacrificio è stato. Ora dobbiamo scoprire cosa tramano i nazisti e come possiamo fermarli. Un alto ufficiale della Luftwaffe si trova sull'isola. Il generale Tobias Schmidt. E nelle grazie di Hitler lo sanno tutti. Schmidt non si lascerà mai prendere vivo e non tradirà mai il suo amato Führer. Ma potrebbe avere con sé informazioni utili per noi. La mia missione? Uccidere Schmidt e tutti gli auti ufficiali. E poi sparire. Quegli uomini non devono essere morti in vano. Devo scoprire tutto ciò che posso sul nuovo razzo. No. 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 Potrei eliminare questo tizio senza fare il minimo rumore. Sì, è vero. Ma cosa? Rech, Su. Immer fröhlich bleiben. Piano, piano... Dovrò saltare. Si possono salire. Perciò entrare. Può escogli. Piano! Tornare! Forse conviene perquisire i corpi per l'evoluzione. Qui non c'è altro. Qui non c'è l'evoluzione. 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 Perché quella telecamera? Qu'è l'evoluzione? Qui non c'è l'evoluzione. Qui non c'è l'evoluzione. Qui non c'è l'evoluzione. A presto. 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 Sì. 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 Sì, c'è un po' di più! Nonno Sì, sei nella lista dei miei bersagli, amico mio. Ciao, ciao, Fritz. Sì, sì, sì. Non c'è altro. Sì, sì, sì. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti